John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è molto probabile che voi mi sentiate un po' così e così. Purtroppo mi si è rotto, è scoppiato il microfono che tutti voi conoscevate e quindi chiaramente adesso lo sto ricomprando, però al momento non è che non posso fare i video. Allora eccomi qua. Arriverà un microfono nuovo nel frattempo però. Eccovi in questo video qua nel quale andiamo a reagire alla classifica della serie B. Ho visto che, tanto caffettino, ho visto che avete apprezzato moltissimo il video pagellone della serie B e quindi eccoci qua appunto il mio pronostico. Non vi nego che sono sicuro di aver fatto un sacco di macelli, ma proprio un sacco. Ma per il semplice fatto, e vedevo con grande chiarezza, che io mai mi sarei aspettato determinate situazioni. Ho visto che quando sono partito ho fatto dei pronostici, ho detto vabbè, però sapete qual è il problema della serie B raga? La problematica della serie B è che le squadre che arrivano dalla C sono tutte favorite per salire subito. Le squadre scendono dalla A sono tutte favorite per riscendere. Quindi è un macello, cioè guardando la classifica. Ditemi voi se vi sareste mai aspettati per evento ultimo, spalla penultima, perugia terzo ultimo, a Cosenza vabbè, poi Cosenza va bene, ma Brescia ha i play out. C'è qualcosa di veramente clamoroso, qualcosa di veramente clamoroso. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un botto di mi piace qui sotto se volete questo video anche per la serie A. Però, raga, se lasciate mi piace ve lo porto, se no, no, iscrivetevi anche al canale se non l'avete già fatto. Detto questo partiamo subito. Io alla posizione numero 20 e nel frattempo io ve lo scrivo qua, ci ho messo il su T-roll. Cominciamo malissimo. Allora, io vi ricordo subito che prendo un punto per ogni raggruppamento preto. Cioè se vi dico che una squadra arriva in play off, arriva in play off, l'ho preto. Se vi dico che una squadra vai in A, vai in A, l'ho presa, vai in B, l'ho presa, vai in play out, play out, l'ho presa. Se invece prendo la posizione esatta, prendo tre punti. Se prendo una posizione vicina, prendo due punti. Se prendo due posizioni vicine, quindi tipo, che ne so, guardate la classifica di qua. Se metto il commo undicesimo, arriva a tredicesimo, prendo due punti, però un punto. Però ci può essere solo una squadra tra il piazzamento mio e appunto quello sopra, non addirittura due. E il Suttirol, ragazzi, a me mi fa ride come cosa, ma è arrivato, è arrivato sesto. Il Suttirol è arrivato sesto. Cioè non è che ho sbagliato, non è che ho sbagliato. Ho preso uno dei granchi più grandi della storia dei granchi. Cioè io non pensavo che esistessero granchi così grandi da prendere. Io li ho presi. Suttirol 20, tra l'altro, scusate, ingrandiamo un pochino perché se no non si capisce niente. Suttirol 20, ragazzi, non ho preso semplicemente un granchio. Ho preso un gran granchio, ho preso un granchissimo, ho preso un granchione. Pazzesco, raga, pazzesco, vabbè. Procediamo. Zero punti per il Suttirolo. Poi passo nella Suttirolo. Non mi aspettavo mai, vi dico la verità, che il Suttirolo facesse questa grande stagione. In realtà ero stato proprio il primo in quel video a dire. Può essere pure che conoscendo la Serie B, il playoff, il Suttirol mi vola i playoff. E di fatti mi è volato i playoff. Però non potevo mai aspettarmi che effettivamente lo facesse. Quindi l'ho messo ventesimo. Mentre qua, insomma, mi sono almeno un po' di più avvicinato. Al diciannovesimo posto ci sono andato a mettere il Cosenza. Come al solito, io metto il Cosenza che retrocede e poi il Cosenza puntualmente fa qualcosa per salvarsi. Di fatto il Cosenza arriva diciassettesimo. In realtà qui non prendo il punto della retrocessione, però un punto lo prendo. Perché? Perché il Cosenza non è arrivato diciannovesimo, è arrivato diciassettesimo. Quindi ha due posizioni dalla mia. Però, dai, diciamolo chiaramente, più o meno il campionato l'avevo letto bene. Tra l'altro il Cosenza sembrava dovesse retrocedere. Sapete che vuol dire proprio con tranquillità, proprio a spasso. La retrocessione sembrava una cosa fatta e finita. E invece gli faccio i miei grandi complimenti perché sono stati talmente tanto bravi da rimontare. Se guardate Spal 35, Spal 38, Perugia 39, Cosenza 40, Brescia 40. Insomma, si sono salvati dalla retrocessione diretta per il rotto della cuffia. Però sono stati veramente, veramente bravi. Però ho fatto un'altra falla perché direttamente in Serie C ci ho messo la regina, ragazzi. Io non c'ho parole. Io non c'ho parole. Anche se devo dire una cosa. E qui voglio dirla con grande chiarezza. Io avevo dei presentimenti sulla regina, no? E quando avevo fatto... Metto tanto, mi metto zero punti. E quando avevo fatto questo video, vi avevo detto Per me la regina va in B, va in C. Perché secondo me la regina va in C? Secondo me la regina va in C perché di base, se ci pensate, La compagine calabrese ha tutti quei problemi legati al presidente, agli stipendi, quello e quell'altro. Non l'avevo anticipato. E addirittura io pensavo fosse nell'area una penalizzazione. Quindi ho detto, per me vanno giù. Non ce la fanno, ritornano giù. E qualcuno mi ha detto, sic, ma che cosa stai dicendo? La regina ha fatto una squadra pazzesca. Vedrai che verrà in Serie A direttamente. Alla fine avete avuto voi ragione in primis perché ha fatto un campionato tutto in alto. Poi però sono subentrati i problemi di cui parlavo io. E quindi di fatto la regina è crollata, è crollata, è crollata, è crollata fino ad arrivare al settimo posto. Però ovviamente non mi sa. In Serie C fa anche ridere perché è arrivata lontanissima dalla Serie C. E quindi nessuna delle squadre che ho messo in C sono scese in C. Bravo Simone, sei un fenomeno, sei fortissimo. Sei il migliore del mondo. Posizione numero 17. Che nella realtà c'è arrivato il Cosenza. Io ci ho messo la Ternana. Complimenti alla Ternana. Io infatti nel mio pagellone che trovate ovviamente sul mio canale Simone Siqualf. Ho parlato della Ternana e ho fatto i complimenti. Ho dato un buon voto alla Ternana. Molti mi hanno detto come fai a dare un voto buono alla Ternana? Si è salvata per 3 punti dai play out. Per me la Ternana, mi metto a 0 punti, aveva tutte le possibilità del mondo per rischiare di scendere. E invece ha fatto un grandioso campionato. 43 punti sono la salvezza matematica in un campionato a 20 squadre. E ha ottenuto quella salvezza lì. Quindi bravi. Meno bravo io. E meno bravo... Pazzesca, io non ne prendo una. Meno bravo, continua ad esserlo perché vi faccio restare tra parte della classifica al sedicesimo posto. Quindi ai play out ci ho messo il Modena. Altri 0 punti per me. Faccio veramente cagare. Faccio veramente cagare ragazzi. Modena che è arrivato decimo, io l'ho messo sedicesimo. Anche qua... Vabbè, poi va detta una cosa. Che la Serie B la maggior parte è culo. Cioè non tutto... Non i risultati. Dico prendere la Serie B la maggior parte è culo. Perché? Perché il Modena, Neuromosso decimo. Il Palermo neuromosso nono. Su Tirol neuromosso sesto. Bari ne ha promosso terzo. Ma come fai? Ma come fai a prendere questo pronostico? Ma come... E poi soprattutto Modena decimo 48 punti. Vai a vedere poi invece la seconda partita della classifica. Cittadella ha più tre dei play-out. Ha fatto 43 punti. Quindi 5 punti in meno. Cioè è praticamente impossibile. Cioè non toglie proprio che io sono scarso come la merda. E quindi Ternana e Modena hanno fatto le campionate di... Non come la venti diversi. Sia da Ternana o no. Il Modena assolutamente sì. Al quindicesimo posto non ho preso manco questa. Però non c'è stato così lontano. Ci ho messo l'Ascoli. L'Ascoli ha fatto un ottimo campionato. 147 punti. Non l'ho presa perché tra il quindicesimo posto e l'Ascoli ci sono Ternana e Como. E non solo una squadra. Quindi da sopra in giù o da sotto in giù. Quindi non ho preso nemmeno un punto. Altri zero punti per me. Fatemi sapere poi voi quanti punti avete fatto in questa folle classifica. L'Ascoli ha fatto un ottimo campionato. Ecco qua non ho rimpianti sul pronostico. Vi dico la verità. Anche se come vedrete qui ancora non c'è... Non c'è so tutte quelle squadre che sono andate giù. Assurdo vabbè. Non c'è nessuno. Tranne il Cosenza ancora... Le squadre che stanno sotto non ne ho messa manco una raga. Io resto basito. E l'Ascoli ha fatto il campionato che doveva fare. Al quattordicesimo posto. Tenetevi forti perché ci ho messo il Benevento. Allora vabbè dai raga parliamoci chiaro. Nessuno. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere quello che abbiamo visto dal Benevento. Dai nessuno. Cioè come potevamo aspettarci sinceramente che il Benevento retrocedesse addirittura in Serie C? Che cazzo? Ma che cazzo è? Chiudiamo la finestra. Io non ho parole raga. Cioè è una strada chiusa tra l'altro questa. Vabbè. Quattordicesimo posto il Benevento. Io non mi aspettavo mai. Non mi aspettavo mai. Ma mai che il Benevento retrocedesse. Anzi addirittura mi ricordo che qualcuno tutto il video mi disse. No vabbè sic ma quattordicesimo il Benevento. Ma quando mai? Cioè il Benevento salirà. C'è una squadra competitiva. Guardate dove cazzarola è arrivata. Ventesimo. Ventesimo ragazzi. 35 punti fatti in campionato. Una cosa disumana. Una cosa veramente disumana rispetto a quanto ci aspettavamo per il Benevento. Io sono rimasto davvero senza parole. E come al solito mi prendo zero punti. Tredicesimo posto. Ci ho messo il Cittadella. Che è arrivato quindicesimo. Oh. Una gioia. Una gioia. Cioè una gioia. Un punto. Perché c'è una squadra laternana tra il tredicesimo posto dove l'ho messa io e il quindicesimo. Dove è arrivato il Cittadella. Ecco mi aspettavo questo campionato qua del Cittadella. Tra l'altro Cittadella che è una delle squadre meno forti della serie B a livello di valore. Quindi mi aspettavo anche questa cosa qua. Mi aspettavo anche che il Cittadella alla fine qualche punto per strada lo perdesse. E di fatto lo ha perso. E alla fine è un tredicesimo posto che gli fa onore. E che mi fa prendere anche un punticino. Non lo prendo però per la posizione subito successiva. Perché questi hanno deciso di fare una rimonta pazzesca. E ci ho messo il Venezia. Allora non vi nego che secondo me il campionato del Venezia l'avevo letto bene. Cioè non mi aspettavo che facessero rimonta contro rimonta cazzi e mazzi. Però alla fine il Venezia se ci fate caso è arrivato ottavo. Non mi prendo punti. Non mi devo prendere punti. Però ha fatto una rimonta da pazzesca. Cioè se ci fate caso comunque raga dai parliamoci chiaro. Il Venezia è arrivato ottavo con 49. Il dodicesimo in Cassia ne aveva 47. Cioè tra Como, Ascoli, Pisa, Venezia, Palermo, Modena. Poteva succedere la qualunque. Quindi qua poi le posizioni faccio fatica anche. Però il Venezia ha fatto una gran rimonta. Io mi aspettavo un campionato nel quale il Venezia alla fine si salvasse. Poi si è salvato grazie a Poglian Pali addirittura ha preso i playoff. Poi faremo anche il videorella di me playoff. Mi aspettavo che si salvasse. Però non mi aspettavo che addirittura riuscisse a prendere i playoff. Complimenti a voi. Alla dodicesima posizione in realtà ci è arrivato l'Ascoli. Undicesimo posto. Lì c'è arrivato il Pisa. Io ci ho messo. Ecco. Udite, udite, udite. Perché è molto divertente. La spalla. La spalla è retrocessa. Matematicamente. Direttamente. Senza passare dai playoff. Allora. Facciamo un attimo di chiarezza. Perché è fondamentale fare un attimo di chiarezza. Per quanto potete venirmi a dire che secondo voi era prevedibile che la spalla si sarebbe salvata. Cioè si sarebbe andata in C. Per me no. Cioè anche lo stesso Tacopina era incazzato nero perché diceva che i giocatori non stavano dando il fritto per salvarsi. E io penso che sia quello. Cioè per me la spalla, la squadra buona, discreta, di tutto rispetto, ce l'aveva. Cioè arrivare undicesimi ci poteva stare a metà classifica. Certo, arrivare invece diciannovesimi e retrocessi assolutamente no. Non me l'aspettavo. Passiamo dall'altra parte della classifica. Quindi passiamo nella parte sinistra della classifica. Tant'à fino a io adesso dovrò guardare quelle di destra però noi ci passiamo comunque. Alla decima posizione ci è arrivato il Modena che io chiaramente come vedrete ho già messo. E quindi io che ci ho messo alla decima posizione è il Frosinone ragazzi. Che è arrivato primo. Fammi beveva. Fammi beveva che è meglio. Non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente. Non ho capito niente. Zero posizioni prese. Oh assurdo. 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 Frosinone zero punti. Ma aspettavo nonostante il Frosinone ci avesse una grande squadra che visto che c'erano compagini forti come Parma, Cagliari, Genoa, Palermo. Cioè tutte squadre molto forti. Benevento stesso Spal. Che comunque piano piano andasse a sopperire il Frosinone. E che magari non avesse la possibilità di risalire subito. Il Frosinone ha fatto un campionato perfetto. Veramente perfetto. Gli vanno dati tutti i meriti del campionato che ha fatto. Decimo posto ci ho messo io. Bravo io che sono effettivamente stronzo. Nono posto ci è arrivato il Palermo. E io ci ho messo il Perugia. Perugia matematicamente retrocesso. Ragazzi. Eccolo lì. 18esimo posto 39 punti. Io l'ho messo al nono posto. In realtà a meno 10 dal nono posto. Il Perugia ha fatto... Cioè. Vi rendete conto quanto è bella la Serie B? Vi rendete conto quanto è aperta la Serie B? Vi rendete conto quanto è divertente la Serie B? Regà. Zero punti per il Perugia. Io mai mi aspettavo insomma un Perugia così brutto. Mai me lo sarei aspettato. E effettivamente. Effettivamente. Mi aspettavo arrivassi al ridosso dei playoff. Invece l'anno prossimo manco ci sarà in Serie A. Per me è clamoroso. Spal 11esimo. Benevento 14esimo. Perugia nono. E alla fine sono scese tutte e tre. Veramente assurdo. Saliamo nei gradini dei playoff. Quindi in questo caso prendiamo anche un punto. Almeno questo. Se abbiamo preso la squadra che va ai playoff. E io all'ottavo posto. Guardate lì la Madonna. Mi prendo due punti ma. Ci ho messo il Palermo. Palermo che è arrivato nono. Potevo prendermi quattro punti se il Palermo avesse fatto il suo dovere. Il Palermo il suo dovere non lo ha fatto. Il Palermo era ottavo. Fino a un minuto dalla fine. Poi ha segnato il Venezia. No. La regina. Il 94esimo. E il Palermo è uscito bene. 49, 49, 48, 48, 47 e bla bla bla. Palermo due punti perché? Perché avevo una posizione sotto la mia posizione. Quindi non è che ho sbagliato poi di così tanto. Avevo letto bene la stagione del Palermo. Sempre a ridosso e a rischio dei playoff. Poi però secondo me avrebbe dovuto prenderli. E invece non ce l'ha fatta. Settimo posto. Settimo posto. Ecco. Devo dire che io qua mi prendo un altro punto. Però. Beh l'ho letta molto bene. Io qua mi voglio fare i miei complimenti. Ci avevo messo il Bari. Mi prendo un punto solo in relazione in realtà ai playoff. Perché il Bari entra ai playoff. Da terza mi entra ai playoff. Ha fatto un campionato straordinario il Bari. Cioè addirittura è arrivato terzo a più cinque dalla quarta. Cioè se avesse ingranato prima magari con il più dieci avrebbe annullato i playoff. Assurdo. Ha fatto un campionato pazzesco. Il Bari. Non mi aspettavo che facesse questo campionato così assurdo. Ma mi aspettavo che facesse bene. Infatti se vedete l'ho messo settimo. E qua mi vanto nel dire che qualche posizioncina l'ho anche presa. Posizione numero sei. Ecco qui invece ho sbagliato completamente. Ci ho messo il Como. Allora. Como sono zero punti assolutamente. Qualcuno dirà. Como. È arrivato tredicesimo il Como. Bassissimo. Veramente bassissimo. Veramente veramente bassissimo ragazzi. È vero che però ha fatto 47 punti. Ammettiamolo. È quella che insomma è la squadra che doveva necessariamente arrivare sesta. Ha fatto 58 punti. Non è che c'era sto dislivello così enorme e così gigantesco. Però comunque debbo dire che il Como tutto sommato mi aspettavo potesse fare di più. Aveva preso Fabricas. Aveva preso Cutrone. Aveva fatto una squadra interessante. Avevamo tutti super fomentati di quello che potesse effettivamente fare il Como. Invece ha fatto a mio avviso discretamente male. E ho fallito miseramente. Anche per quanto riguarda il quinto posto. E se vi faccio vedere questa parte della classifica potete capire il motivo. Perché al quinto posto ci ho messo il Pisa. Anche Pisa a zero punti. Allora il Pisa è stato un po' una delusione. Perché lo scorso anno ha perso la finale playoff. E io nel video dicevo. Non mi aspetto che il Pisa arrivi magari in Serie A direttamente. Non mi aspetto che il Pisa arrivi terzo. Se non sbaglio l'anno scorso è arrivato terzo. Superando il Monza all'ultima giornata. Ma vedendo promosso in Serie A. La Gremonese. E poi aveva perso il Serie A. Poi avevo la finale playoff contro il Monza. Mo' sono andando un po' a memoria. Quindi ho detto. Non mi aspetto questo. Però mi aspetto che almeno quinto ci arrivi. Quindi non entri nemmeno nelle due squadre che sono genzi in finale dei playoff. Però comunque mi aspetto che ci arrivi. E invece non ci è arrivato. Cioè ha fatto malissimo. È arrivato undicesima. E per la rosa del Pisa ci potrebbe anche stare. Io non dico di no. Però personalmente la ritengo un po' una delusione. Poi sempre riguardante i playoff. Torniamo dall'altra parte per fortuna della classifica. Al quarto posto ci ho messo. Qua non è che non ho preso in realtà i playoff. Non ho preso un cavolo. Però ho preso forse un punto. Ci ho messo il Genoa. Un punto. Un punto per la differenza. Quarta l'ho messa io. Seconda sono arrivati loro. Quindi un punto che ci sta. Un punto che diciamo è accettabile. L'unica cosa è che il Genoa è arrivato al di sopra. Delle mie aspettative. Molto al di sopra. Nel senso che comunque è arrivato secondo. Ma si è venuto in Serie B con un punto di realizzazione a spasso in ciabatte. Ma aspettavo che per il primo anno di Serie B potesse fare un po' più di fatica. E poi magari salire direttamente dai playoff. E ci stavo. Cioè se guardate il lotto delle squadre che ho messo in playoff. Palermo, Bari, Combo, Pisa, Genoa. E ora vedrete l'ultima. Il Genoa era la stra 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 favorita. E se la giocava con piazzi importanti come dovevano essere Palermo o Bari. O quella che devo mettere al terzo posto. Che mi fa molto molto ridere. E ne parleremo tra poco. E invece il Genoa comunque mi ha sorpreso. Però un punticino me lo prendo. E al terzo posto ragazzi non avete idea di cosa sto per fare. Vi faccio vedere quest'altra schermata. Perché al terzo posto ci ho messo una squadra che è arrivata. Ai play out. Il Brescia. Regà io mi aspettavo che il Brescia facesse bene. Il Brescia si è salvato all'ultima giornata facendo un punticino con il Palermo. Per me era una cosa impensabile. Per me era una cosa veramente impensabile. Io non potevo credere che il Brescia non arrivasse ai play off. Non facesse un gran campionato. Se non sbaglio lo scorso anno era arrivato proprio al ridosso dei play off. Come ha fatto? Non so, non capisco ad arrivare così in basso. Io gli do zero punti. Gli darei anche zero punti a loro. Clamoroso. Che falla clamorosa anch'io che ho preso in questo caso. Seconda classificata. Quindi, vabbè, stavolta perlomeno almeno questo me lo devo deconciere. Torno di qua. Seconda classificata. Anche se poi come avete visto Frosinone e Genoa l'ho già messo più in basso. Quindi non ne ho presa nessuna delle due. Ci ho messo al secondo posto il Cagliari. Ecco, io mi aspettavo che quello che ha fatto il Genoa lo facesse il Cagliari. Non l'ho affatto. Non l'ho affatto. Hanno sbagliato. Però sono arrivati i quinti. Non mi prendo punti perché c'è Bari e Parva. Quindi zero punti. Mannaggia la vacca. Per il Cagliari. Ecco, mi aspettavo qualcosa di più. Io nelle mie paggiali se non sbaglio ho dato otto meno. Perché comunque alla fine del loro buon campionato lo hanno fatto. I loro 60 punti li hanno fatti. Tra tutte le difficoltà del mondo. Poi hanno dovuto cambiare tecnico. Cioè, cambi in corso. Prendi Ranieri. Vuol dire che comunque non è che stai andando molto bene. E poi se ci fosse stato Ranieri dal primo giorno avrebbero addirittura vinto il trofeo della serie B. Questo ovviamente non è successo. E alla posizione numero 1 ci sono andato a mettere il Parma. Anche in questo caso proprio metodico. Cioè, Bari e Genoa tra la prima posizione del Parma. Quindi zero punti anche in questo caso. Ho preso zero posizioni precise, ragazzi. Zero posizioni. Penso che non era mai successo a vita mia. Parma che per me quest'anno dovrà necessariamente fare il grande salto. Non l'ha fatto. Lo potrebbe fare tramite playoff. Ma non l'ha fatto. Quanti punti ho fatto? Uno, due, quattro, cinque, sei punti, ragazzi. Ho fatto sei punti. Ho fatto sei punti su un totale di 60, 60, madonna, madonna, 62, 62, 63, 64, 6 su 74. Ho fatto sei punti. Io ho fatto sei punti su un totale di 74, ragazzi. Per farvi capire la mia situazione. Questo è stato il mio pronostico, guardate, della serie B. Sei punti su 74. Non ho parole. Io non ho parole. Io non ho parole. Fatemi sapere la vostra. Voi che avete preso, l'avete fatto. Ciao, raga.